Siamo con l'assessore Adelchi sul Pizio per parlare del caldo che sta tanagliando anche Pescara e le valli interne dell'Abruzzo in particolar modo, ma anche il capoluogo adriatico. Tanto che si sono registrati dei malori, il pronto soccorso ha avuto diversi accessi e anche il comune ha da fare, perché insomma immagino le richieste anche per voi saranno tante. Voi avete attivato un sistema anticaldo? Sì, da diversi giorni abbiamo attivato questo sistema, sono due numeri che poi andremo a dare anche alla cittadinanza, ormai sono settimane dai primi di luglio che è partito questo sistema, saremo attivi fino al 31 di agosto perché si presume che i picchi di temperatura li avremo fino a questa data, abbiamo due numeri, saremo anche aperti a Ferragosto, quindi a Ferragosto avremo anche un numero tutti i giorni di emergenza, dove tutte le persone che hanno un disagio sociale possono anche coadiuvarsi chiedendo un intervento, ricordiamo fare vari servizi, trasporti medicinali a domicilio, eventualmente trasporto presso per visite mediche urgenti oppure il recapito della spesa. Sono tutti questi servizi che noi andiamo a dare per tutte queste persone che vivono in un momento di disagio sociale e anche giusto che noi facciamo la nostra parte. Avete avuto diverse richieste finora? Ma come richieste non tante, dico la verità, perché anche il sistema è abbastanza rodato ormai, abbiamo avuto più che altro telefonate di richieste di consiglio, il consiglio su come muoversi, come poter fare, ma i nostri servizi sociali ci sono da sempre, su questi svolgono un ruolo importante, ormai il sistema è abbastanza collodato, noi l'abbiamo anche rafforzato quest'anno anche con la giornata di Ferragosto, però sono soprattutto persone che chiamano le persone più anziane, che chiedono consigli, anche una parola di conforto con questo caldo che tenderà anche ad aumentare questi giorni. Come dire, il caldo in comune fa meno male? Sì, è perfettamente ragione, quello che vogliamo dire alle persone, mi raccomando, non uscite in orari caldi, i soliti consigli, non uscite in orari caldi, soprattutto state attenti ai picchi che ci possono essere, comunque in ogni situazione il comune fa la sua parte e diamo questi due numeri che io ricordo, un numero 085 42 83 043, da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, oppure il 388 98 42 381 tutti i giorni dalle 8 alle 18.00, fino al 31 agosto non ci saremo.